è una male che si ricorda com'è caldo ragazzi io sto morendo dai stop wow respira e prepara dai forza lungo il braccio vieni giù i glutei vai vai respira vai stop wow vai forza vai ancora vai su su bene il braccio respira vai stop wow 5 bravi bravi le mamme e bravi i bambini respira e adesso facciamo un po' di stretch mettiti qua sul pacchettino tu vai legando belle larghe allunghiamo sempre la schiena quindi le mani in avanti allunghiamo 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 bravi cammina in avanti con le dita e allunga bene la schiena respira vai respira forza ancora ancora vai perfetto allunghiamo bene allunghiamo bene molto bene e da questa posizione saliamo subito nel cane nel cane faccio in giù che ai nostri fili però sicuramente meglio che a noi quindi allungo le gambe respiro oh che che super stretching ognuno fa quello che riesce respira allungo bene bene e poi cammina piega le ginocchia cammina con le mani verso i piedi con le ginocchia piegate lascia le mani vicino ai piedi allunga le gambe oh ok perfetto le mani più giù che riuscite se le mani non toccano per terra non fa niente state più in basso che riuscite e ogni te sempre che possibile allungate e col tempo vedrete che migliorerete lo sguardo verso le ginocchia respira perfetto adesso piego le ginocchia e sono tornando il tronco vieni su con le ginocchia piegate piego torno su col mento attaccato il petto piano wow perfetto vieni guardate a me adesso allunghiamo i quadricipiti in compagnia guardate una mano sulla spalla e poi allunghiamo così la gamba giusto per stare vicini vicini e appiccicosi eh perché con la sudata che belli sentite allungare i quadricipiti le ginocchia sono vicine molto bene perfetto ok cambio la gamba vanno la ok allungo l'altra ora o le in qua non è sempre così silenziosa eh di solito è molto chiacchierona è vero? si si respira molto bene perfetto ok bene bene a terra e andiamo ad allungare ancora un pochino la schiena quindi appoggio le mani sotto le ginocchia e arrotondo la schiena guardo l'ombelico e arrotondo bene tiro 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 in su con le ginocchia piegate arrotondo bene 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 la schiena respira allungiamo allungiamo respirando wow rilasso le mani torno su piano piano e piano rilasso le spalle bravissimi perfetto appoggia la mano sulla testa così andiamo ad allungare e giro lo sguardo verso il pavimento sentite arrungare bene il collo così non andate via con contratture e cambio dai giro l'altro e lo sguardo verso il pavimento sentite arrungare bene respira molto bene ragazzi bravissimi tutti mamme bambini tutti bravi appoggio le due mani così sopra la testa e lascio allungare la cervicale le ginocchia sono leggermente piegate così senza sforzare con le mani solo appoggio ok rilasso le mani rilassa le spalle e inspira lascio cadere la testa di lato passa avanti dall'altra parte e dall'altra parte ritorno inspiro stessa stesso movimento lascio cadere anche le spalle vai lascio cadere ancora uno inspira e lascio cadere meraviglia perfetto sulle mani un bel respiro su e espira fuori e su mani avanti e fuori ultima ragazze su avvicino braccio gambe e espiro faccio un bel inchino in avanti e grazie mille yeah ci po i pi il il a